Sì, assolutamente sì, una bellissima realtà. Questa sera dobbiamo essere veramente felici per l'accoglienza che siamo riusciti a dare a questo nostro collega, alla sua squadra, per quello che hanno fatto vedere le tifoserie in campo. Due splendide curve, gioiose, festanti, amichevoli ed uno spettacolo sportivo veramente superlativo. Come ci è capitato anche con un altro top player che è Modena, abbiamo veramente fatto una delle nostre migliori partite, sia collegialmente che individualmente. Dobbiamo continuare su questa strada perché se riusciamo a giocare sempre con questa intensità, prima o poi anche la nostra classifica inizierà a muoversi anche di parecchio. Il pubblico è un pubblico maestoso, ha risposto veramente alla grande, un insieme di gioiosi ragazzini, ragazzine, festanti sono stati lì ad aspettare per potersi fare i selfie e potersi far fare gli autografi da tantissimi campioni che si sono prestati con serenità come il nostro sport vuole, dovunque. Questa volta anche a Frosinone dobbiamo soltanto continuare a seminare e seminare perché sono convinto che raccoglieremo anche dal punto di vista della classifica.